Benissimo, allora ci prendo un attimo da dove abbiamo lasciato l'ultima volta una breve ricapitolazione, abbiamo esaurito la discussione sui gruppi bidimensionali, gruppi cristallografici bidimensionali e abbiamo visto che questi, questi sono, ci danno luogo un certo numero di classi cristalline, sono 11 classi, cioè l'elenco di tutti i possibili gruppi puntuali che si possono costruire utilizzando le simmetrie permesse dalla resistenza cristallografica, quindi il 2, il 3, il 4 e il 6, poi combinandole con le operazioni di riflessione, questo si porta alla costruzione di 11 classi e dopodiché quello che si fa è andare a vedere quali vincoli vengono imposti dalle simmetrie presenti in ogni classe e così si scopre che ad esempio semplicemente i gruppi che hanno semplicemente l'identità o la rotazione di ordine 2 non impongono alcun vincolo metrico, quelli che hanno una riflessione M compare un vincolo metrico sull'angolo tra due vettori della base cristallografica bidimensionale, quindi alfa uguale che viene ecomezzi, questo vale sia per 2M sia per la classe M, se abbiamo rotazione di ordine 3 così come se abbiamo rotazione di ordine 6 i vincoli imposti sono di questo genere, quindi A uguale B e l'isolizzatore laser, A uguale B e alfa 2 pi greco T, in pratica alfa uguale 120 gradi, volendo dire in gradi, se abbiamo rotazione di ordine 4 e anche questo vale sia per la classe 4 che per la classe 4M abbiamo i vincoli A uguale B e alfa uguale pi greco quindi abbiamo cinque sistemi cristallini entro i quali si vanno a distribuire le undici classi, questi sistemi cristallini hanno un nome, è obliquo se è per il sistema che ha semplicemente simmetria 2, la più alta simmetria del reticolo sarà la simmetria 2, il rettangolare per la simmetria 2M, il quadrato la simmetria 4M, il trigonale per la 3M e l'esagonale per la 6M. Dopodiché avevamo visto i gruppi spaziali, quindi il discorso della unione, in realtà sarebbe il prodotto dei gruppi puntuali con il gruppo delle transnazioni del cristallo del reticolo e questo ci generava 17 gruppi spaziali possibili, tenuto conto che questa operazione di unione tra le transnazioni e le simmetrie puntuali può generare, genere in generale, delle nuove operazioni di simmetrie, in particolare le glide che corrispondono a delle simmetrie di riflessione con trasnazione, qui è rappresentata una glide che ha una riflessione con una trasnazione di un mezzo del vettore B, parallela all'asse glide ledesimo. Questo era il discorso che ho fatto in cui venivano fuori queste glide dal fatto che mettevamo insieme la centratura di un reticolo, quindi questo si tratta del sistema rettangolare centrato, con la presenza di una riflessione M, questo genera la presenza del glide messo qui a x uguale un quarto, ricordate il discorso sulle coordinate frazionarie, se attribuiamo una coordinata x agli oggetti che sono lungo questa direzione generata dal vettore A, le coordinate frazionarie sono le coordinate di vari oggetti in unità del modulo del vettore A, quindi qui avremo x uguale 0, qui avremo x uguale 1, qui abbiamo x uguale un mezzo e queste posizioni corrispondono a x uguale un quarto e x uguale tre quarti, quindi mettendo insieme C ed M ci compare un glide a x uguale un quarto e un glide a x uguale tre quarti. Dopodiché si è detto che riconosciuta l'esistenza dei glide come possibili operazioni di simmetria spaziale, spaziale vuol dire che coinvolgono sia una componente puntuale della simmetria sia una componente trasnazionale, possiamo anche costruire gruppi spaziali in cui sia presente la linea G in luogo della linea M, allora qui avevo fatto l'esempio del gruppo PG, quindi non c'è più la centratura del reticolo che genera insieme a un M general glide, ma abbiamo semplicemente un reticolo primitivo, quindi non c'è vettore centrante e anziché avere il PM come gruppo spaziale abbiamo il PG, quindi al posto di M mettiamo il glide G e quindi al posto di M come potevamo avere in questo gruppo, anziché questo PM in cui avevamo la cella rettangolare, la riflessione al centro di tipo semplice che prende questo oggetto e lo riflette in questo, in quest'altro caso abbiamo il glide che riflette e trasla di un mezzo parallelamente a B, B è dato da questa direzione, quindi non ho segnato, ma B è dato da questa direzione. Dopodiché se applichiamo una seconda volta il glide, riflettiamo e trasliamo di un mezzo e finiamo alla posizione che si genera a partire dalla posizione iniziale, dall'oggetto iniziale, traslandolo di B, esattamente di B. E in questo modo si genera tutta la nostra struttura cristallina nel momento in cui andiamo a applicare tutte le traslazioni, tutti i glide che sono presenti nel gruppo e vedete che compare un glide anche a x uguale a 0 e anche a x uguale a 1, tant'è che questo oggetto viene riflesso al traslato di un mezzo, riflesso al traslato di un mezzo, eccetera, eccetera, la stessa cosa per questo, riflesso al traslato di un mezzo, riflesso al traslato di un mezzo. Quindi si è partiti da un glide al centro cella e si trovano i glide anche passanti per x uguale a 0 e x uguale a 1, esattamente come capitava nel gruppo PM in cui si partiva da un mirror, quindi una linea di riflessione a centro cella e si generano poi anche i mirror che passano a x uguale a 0 e x uguale a 1, vedete che qui c'è un mirror che mette in condivisione, mette in connessione questo oggetto con questo, questo con questo, eccetera. Dopodiché avevo elencato qui di tutti i possibili gruppi che possiamo costruire, gruppi spaziali per esempio nel rettangolare, quindi abbiamo il PM e il PG che abbiamo visto, il PMM o il PMG, quindi una delle due M le sostituiamo con una delle G, oppure le sostituiamo tutte e due, quindi abbiamo un PGG e in quest'altro caso del CM e del CMM non andiamo a costruire un gruppo spaziale nuovo rispetto al CM perché quando appunto mettiamo la centratura C e il mirror M automaticamente salta fuori G. Quindi poiché il simbolo del gruppo sono presenti soltanto le simmetrie indipendenti attraverso le quali poi generiamo tutte le altre, nel CM c'è anche la G, quindi il CG è equivalente esattamente al CM. Se partissimo da un reticolo centrato C e ci mettessimo su una linea su un glà G, troveremo anche la M, quindi il CG è esattamente uguale al CM. E il CMM è la stessa cosa uguale al CGG, quindi non abbiamo necessità di costruire nuovi gruppi spaziali, ma perlomeno quelli che generiamo andando a sostituire al posto di una M la G sono equivalenti a quelli che abbiamo già scritti qui. Quindi in totale abbiamo questi sette gruppi spaziali nel rettangolare. Considerato anche gli altri sistemi, quindi l'obbrico, il quadrato, il trigonale e l'esagonale, abbiamo in totale 17 gruppi spaziali bidimensionali. Quindi questa era la ricapitolazione relativamente alla parte bidimensionale. Sulla parte 3D abbiamo cominciato a parlare di quali sono le possibili simmetrie, quindi avremo anche qui delle simmetrie di rotazione, esattamente le stesse che si hanno anche nel bidimensionale, la resistenza cristallografica vale pari pari anche nel caso tridimensionale, con l'unica differenza che mentre nel caso bidimensionale le rotazioni avvengono invariabilmente attorno a un punto, il detto il punto di rotazione, nel tridimensionale le rotazioni avvengono intorno ad assi che possono assumere orientazioni differenti nello spazio. E quindi abbiamo la possibilità di avere gruppi che contengono rotazioni per esempio di ordine 3 e di ordine 4 contemporaneamente, ma intorno ad assi che non sono coassiali, che sono orientati nello spazio in modo diverso. Cosa impossibile nel bidimensionale, per cui se vogliamo comporre una rotazione 3 come una 4 otteniamo una rotazione risultante per una rotazione di un ordine 7, che è vietato dalla restrizione cristallografica e quindi non possiamo evidentemente avere gruppi che contengono sia la simmetria 3 sia la simmetria 4, mentre invece nel tridimensionale questo è possibile, tant'è che i gruppi cubici che appartengono al progetto sistema cubico, che è uno dei sistemi più importanti cristallografici, ha presenti contemporaneamente rotazioni 3 e rotazioni 4. Non sempre esistono anche in realtà gruppi che appartengono al cubico che hanno solo rotazioni 3, però ne hanno più di più di una presenti diciamo intorno ad assi che non sono coassiali, non sono orientati nella stessa direzione. Oltre alle rotazioni e alle simmetrie planari, quindi riflessioni rispetto ai piani, questa volta non riflessioni rispetto a linee, abbiamo anche l'inversione, un'operazione che è indicata con meno 1 che quindi scambia le coordinate, si può dire così, scambia le coordinate x, y, z di un dato punto nello spazio in meno x meno y meno z, quindi inverte la posizione di un oggetto rispetto al cosiddetto centro di inversione che è l'elemento di simmetria corrispondente alla simmetria di inversione. E questa inversione può poi essere combinata con le operazioni di rotazione per dare luogo alle cosiddette simmetrie di rotoinversione, quindi abbiamo indicate con il simbolo n, l'ordine della rotazione seguita dall'inversione che è il meno messo sopra l'n, chiamato meno n, quindi meno 1 non è nient'altro che la rotazione di 360 gradi seguita dall'inversione, cioè proprio l'inversione medesima, però potremmo avere la 2 meno, la 2 meno corrisponde alla rotazione di ordine 2 seguita dall'inversione, la 3 meno, la 4 meno e la 6 meno sono tutti possibili inversioni. Quindi abbiamo rotazioni, abbiamo riflessioni, abbiamo inversioni e rotoinversioni, con questi possiamo costruire i gruppi puntuali compatibili con i sistemi tridimensionali, con i reticoli tridimensionali, tenuto conto della restrizione cristallografica per cui le rotazioni possibili sono sempre soltanto la 1, la 2, la 3, la 4, la 6. In totale quindi vengono a costruirsi in questo modo 32 classi, quindi come se ne costruivano 11 nel bidimensionale, se ne costruiscono 32 nel tridimensionale e quando si va a vedere quali siano i vincoli metrici che ciascuna di queste classi impone sul reticolo, quindi sulla cella cristallografica, ovvero sui vettori della base reticolare, della base cristallografica, abbiamo 7 sistemi cristallini che vengono fuori, come ne venivano 5 nel caso bidimensionale, ce ne sono 7 nel caso bidimensionale. Allora si possono andare a vedere quali sono questi vincoli metrici, per cui nel triclino il sistema, questi nomi qui vi prego di impararli, non sono tanti, sono soltanto 7, quindi ancora più che nel bidimensionale, dove appunto magari all'esame non faccio domande, ma nel tridimensionale sì, avete soltanto 7 nomi da imparare e le relative simmetrie del reticolo. Allora qui avete il nome del sistema, la classe oloedrica che è la classe di simmetria del reticolo e la classe di più alta simmetria nell'ambito di ciascun sistema, poi possono esistere delle sottoclassi, dei sottogruppi, ogni sistema può avere un certo numero di 18 gruppi, adesso poi chiarifico meglio questo fatto, no? E qui avete scritti vincoli metrici, poi le centrature le vediamo dopo. Allora il triclino ha classe oloedrica 1-, cioè la simmetria massima di un sistema triclino è l'inversione. Questa non impone nessun vincolo metrico, attenzione che un'altra classe che fa sempre parte del triclino e che non è la classe oloedrica, ma è una sottoclasse, è semplicemente la classe 1, quella che non ha neanche l'inversione, ha semplicemente l'identità come elemento di simmetria, come operazione di simmetria. Quindi anche il gruppo 1, cioè la classe 1, apparterrà il triclino e non avrà vincoli metrici così come non ce l'ha la classe 1. Quindi è un sistema su cui non ci siano vincoli metrici triclino. Dopodiché il reticolo avrà certamente simmetria 1-, la struttura cristallina che si costruisce su quel sistema, su quel reticlino, quel reticolo quindi, potrà avere o la simmetria del reticolo medesima, quindi 1- o una sottosimmetria, quindi la simmetria 1. Monoclino, quindi andiamo a mettere simmetrie di ordine sempre più elevato, sempre più ricco, come il gruppo di simmetria che andiamo a costruire, e passando dall'1- al successivo, quel che possiamo fare è aggiungere una rotazione di ordine 2 oppure una riflessione M. Allora, ricordate il fatto che nel bidimensionale la rotazione di ordine 2 non imponeva nessun vincolo metrico, mentre M imponeva un vincolo metrico sull'angolo tra i vettori della base. Nel tridimensionale c'è una piccola differenza, il ruolo che è giocato dal meno 1 nel tridimensionale è giocato dalla digira, dalla rotazione di ordine 2 nel bidimensionale. Invece nel tridimensionale la rotazione di ordine 2 impone un vincolo che è lo stesso vincolo che impone la riflessione M. Quindi avete alcune sottoclassi, la classe loedrica innanzitutto è la 2 su M, questo simbolo si legge 2 su M. Non dite poi all'esame 2 barra M o semplicemente 2 M. Se dite 2 M vuol dire che state parlando di un sistema successivo, di cosetto ortoromico, cioè vuol dire un sistema che ha un piano M di simmetria che contiene l'asse di rotazione di ordine 2 e in quel caso passate nell'ortoromico. Qui invece avete un asse di rotazione di ordine 2 perpendicolare a un piano di riflessione M. Attenzione quindi a non dirmi 2 M, ditemi 2 su M oppure se mi dite 2 barra M va bene lo stesso, non è la rotazione convenzionale, ma 2 su M è quella che andrebbe detta. Allora, l'asse di rotazione 2 può essere orientato in direzioni differenti. Possiamo orientarlo per esempio lungo il vettore A, quindi l'asse generato dal vettore A, quello che chiamiamo l'asse X del sistema, oppure potremmo orientarlo lungo B, e quindi quello che dà ruolo all'asse Y del sistema, oppure anche lungo il vettore C, ovvero lungo l'asse Z del sistema. La notazione convenzionale, l'orientazione convenzionale per il sistema monoclino, quindi quello che ha submetria 2 su M, pone l'asse di rotazione 2 lungo B, quindi lungo Y. E questo comporta questi vincoli metrici, quindi se esiste un 2 parallelo a B, i vincoli metrici che vengono fuori sono degli angoli alfa e gamma di 90 gradi, e gli alfa e gamma sono scritti qui, e anche questa è una nomenclatura standard, convenzionale, per cui come fate a segnare i nomi agli angoli? L'angolo alfa è quello opposto al vettore A, l'angolo beta è quello opposto al vettore B, e l'angolo gamma è opposto al vettore C. Quindi una volta che abbiate scritto la vostra terna destrorsa, questa deve essere considerata una terna destrorsa, avete collocato A, B e C, gli angoli, i nomi degli angoli sono univocamente determinati, avete alfa, beta e gamma messi in questa posizione. Allora alfa uguale gamma uguale 90 gradi significa che questo angolo qui e questo angolo qui sono vincolate a pi greco mezzi, mentre è libero l'angolo beta che è l'angolo formato dai vettori C ed A. Possono capitare dei casi di descrizione di sostanze in letteratura in cui, soprattutto per le sostanze cristalline che sono state caratterizzate più indietro negli anni, che sono magari negli anni 60 o negli anni 50, in cui non c'era ancora una convenzione univoca nel fissare la rotazione di ordine 2 lungo B, l'asse di rotazione di ordine 2 lungo B, ma ognuno faceva un po' quel che voleva in base a quello che gli tornava comodo, utile in quel momento. Per cui avete delle descrizioni di sostanze fatte nel monoclino ma in cui l'asse di rotazione è messo per esempio lungo A. Allora quale sarebbe l'angolo, gli angoli che vengono vincolati? Allora vedete che qui quando l'asse di rotazione è messo lungo B avete vincolato, avete libero, l'unico angolo libero è quello opposto a B, gli altri sono vincolati. Se voi mettete la rotazione 2 parallela ad A, l'angolo libero sarà alfa e invece saranno vincolati il beta e gamma. Stessa cosa, mettete la rotazione 2 lungo C, l'angolo libero sarà il gamma e quelli che saranno vincolati saranno beta e alfa. Questo discorso lo dico, lo faccio in dettaglio perché poi mi serve dopo per parlare dell'ortorombico, però adesso rimaniamo ancora un attimo sul monoclino. Allora il vincolo metrico alfa uguale gamma uguale 90 gradi per la rotazione standard lungo B. Questo è il vincolo metrico imposto dalla rotazione 2. Il vincolo metrico che viene imposto dal piano di riflessione M perpendicolare a 2, 2 su M vuol dire M perpendicolare a 2, è esattamente identico a questo. Quindi la M che sarebbe coincidente un piano perpendicolare a B, quindi va in un piano che definito dai vettori C ed A, impone esattamente l'uguaglianza dei due angoli alfa e gamma a 90 gradi. Quindi 2 ed M insieme definiscono la stessa metrica, gli stessi vincoli metrici del reticolo, finiscono quindi nello stesso sistema cristallino che è appunto quello che chiamiamo monoclino. Dopodiché una sostanza cristallina può avere una sottosimmetria di questo 2 su M, per esempio può avere sottosimmetria 2, potrebbe avere simmetria 2 su M. Quindi gli atomi nella cella elementare sono distribuiti in modo tale da riprodurre una simmetria 2 su M, oppure possono essere distribuiti in modo tale da presentare soltanto più la simmetria 2, quindi avete ancora una sottoclasse del monoclino con simmetria 2, oppure una simmetria M e non la 2, perciò avete un'altra sottoclasse 2 su M. Se però la simmetria scendesse in modo tale che, cioè gli atomi si disponesse in modo tale che non è più presente né la 2 né la M, a maggior ragione né 2 su M, ma indipendentemente né 2 né M, scendete necessariamente nel triclino, perché a quel punto non avete più nessun vincolo metrico. Notate che nel 2 su M avete il centro di inversione, perché se ci pensate, adesso questo io non ve lo posso fare in dettaglio, ma se combinate una rotazione 2 con una riflessione perpendicolare a quell'asse di rotazione, il risultato è proprio un'inversione. Quindi nel monoclino, nel gruppo, nel simbolo del gruppo, questo 2 su M è il simbolo del gruppo, il simbolo della classe oloidrica del gruppo, sono presenti come al solito soltanto gli elementi, soltanto le simmetrie che sono indipendenti, non quelle che si possono generare a partire da questi due oggetti. E mettendo insieme 2 ed M perpendicolare a 2 otteniamo l'inversione. Quindi la classe oloidrica nel monoclino è meno 1, cioè contiene il meno 1. Se togliete il 2 e rimane soltanto l'M non è più presente neanche il centro di inversione. E la stessa cosa se togliete l'M e lasciate solo il 2 non è presente il centro di inversione. Questo è perché? Perché se voi avesse il centro di inversione e anche il 2 automaticamente avreste anche l'M. Se voi avesse il centro di inversione e anche l'M automaticamente avreste anche il 2. Allora quelle due classi, cioè quelle due sottoclassi del monoclino non oloedriche, la 2 e la M si indicano che sono classi non centrosimmetriche ed esistono effettivamente le sostanze cristalline che appartengono al monoclino con una di quelle altre due classi. L'ortorombico MMM. Allora qui avete tre piani scritti così, cioè il gruppo è generato, questa o quella classe, è generata da tre piani di simmetria, quindi tre operazioni di simmetria relativamente a rispettivi tre piani di simmetria perpendicolari rispetto a loro. E il primo M che è scritto qui si intende che sia la simmetria rispetto al piano che è perpendicolare ad A, quindi il piano CB. Il secondo M si intende che sia la riflessione rispetto al piano CA, quindi il piano perpendicolare a B, e il terzo M è quello invece definito di vettori AB perpendicolare a C. Quindi è una notazione, attenzione quella di Armand Moghecki nel tridimensionale è più evidente che non nel caso del bidimensionale, avevamo solo due generatori al più, no? Qui abbiamo tre generatori, è una notazione che non solo include gli elementi o le simmetrie indipendenti, ma è anche una notazione posizionale, cioè l'orientazione dell'elemento di simmetria corrispondente alla data operazione di simmetria rispetto agli assi cristallografici ABC dipende da dove è scritto il simbolo dell'operazione di simmetria all'interno del simbolo del gruppo. E attenzione, c'è una domanda? Non sento più, forse no. Ogni sistema, anche nel 2 su M, convenzionalmente il 2 è, come ho detto prima, parallelo a B e l'M perpendicolare a B. Qui invece, e quindi questo simbolo 2 su M va preso tutto insieme, la direzione cristallografica di riferimento per interpretare il 2 su M è la Y. 2 è parallelo a B ed M perpendicolare a B, cioè all'asse Y. Nel triclino, evidentemente, essendoci soltanto il centro di inversione, o al più può esserci oppure l'identità da sola, non c'è nessuna direzione da indicare. Mentre gli assi e i piani sono degli oggetti mono e bidimensionali che hanno un'orientazione nello spazio, il centro di inversione è semplicemente un punto, perciò non ha nessuna orientazione nello spazio, quindi non è necessario indicare una direzione di riferimento. Non c'è di fatto nessuna direzione di riferimento. C'è nel monoclino, c'è nell'ortorombico e attenzione che le direzioni di riferimento cambiano da sistema cristallino a sistema cristallino. Quindi 2 su M, letto come un tutt'uno, direzione di riferimento il vettore B, quindi la direzione generata dal vettore B. Ortorombico, direzione di riferimento X, Y, Z, cioè le direzioni generate dal vettore A, B e C. Non vi preoccupate, questa roba non la dovete studiare a memoria perché non ve la chiedo all'esame, cioè se poi la sapete meglio per voi, però non è che adesso sto a chiedervi anche queste cose che sono molto mnemoniche. Nel momento in cui ne abbiate bisogno andate a guardare una tabella dove queste sono riportate. Però sappiate che per la lettura, per l'interpretazione del simbolo corretta, uno deve conoscerle. Soprattutto poi se deve fare lui stesso un'analisi di simmetria o guardare quello che è pubblicato in letteratura relativamente alla struttura di una data sostanza cristallina, gli si dà il gruppo spaziale e lo si vuole mettere in relazione a quello che è la struttura, come è fatta la struttura cristallina, deve saper leggere il simbolo e quindi interpretare correttamente anche alla luce di quelle che sono le direzioni di riferimento. Allora guardiamo un attimo questa cosa, no? Rimaniamo sull'm. Abbiamo detto nell'm nel monoclino perpendicolare a b vincolava, lasciava libero beta e vincolava alfa e gamma. Qui abbiamo certamente un m che è perpendicolare a b, è il secondo m che è scritto qui, quindi questo m da solo va a vincolarmi alfa e gamma a pi greco mezzo, perché i vincolimetrici sono gli stessi che impone l'm messo qui nel monoclino. Ma poi abbiamo anche altri due m qui, in particolare abbiamo questo m, il primo m, che è perpendicolare all'asse, al vettore a. Allora questo andava a vincolare beta e gamma, lasciava libero alfa ma vincola beta e gamma. Allora l'angolo beta era lasciato libero dall'm perpendicolare a b, dall'm che è scritto in seconda posizione. quindi beta era l'unico angolo libero per azione, per effetto di questa m. Ma quest'altra m me lo vincola, mi vincola sia beta sia gamma che già era vincolato, però mi vincola anche il beta. Quindi m, 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 questa terza m di fatto non impone più nessun vincolo aggiuntivo, perché vincolerebbe anche lei due angoli a 90 gradi, ma tanto sono già gli altri due m che ci pensano a vincolarle tutti, perciò non abbiamo nessun nuovo vincolo, m, 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 sistema ortolombico ha questi vincoli medici, alfa uguale beta uguale gamma, tutti di 90 gradi. Vedete che questi due sistemi vincolano soltanto gli angoli e non vincolano i moduli dei vettori a, b, c. Quindi i moduli dei vettori sono qualunque. Nell'ortolombico abbiamo il vincolo, una cella con tutti e tre i vettori che devono essere necessariamente ortogonali. Ok, attenzione che anche l'ortolombico ha delle sottoclassi, per esempio questa è una classe certamente centrosimmetrica, cioè al centro di inversione e lo dico con sicurezza perché m, m, queste due m insieme se le moltiplicassi, adesso ve lo racconto ma poi magari voi provate a pensarci e a fare dei disegnini e vedere che funziona sul serio così, questo m qui è l'm detto perpendicolare a b e quest'altro m è l'm che è perpendicolare ad a. L'intersezione, e sono due m, sono due piani di simmetria che sono ortogonali tra loro perché appunto la cella deve essere necessariamente ortogonale, quindi se sono ortogonali a e b anche i rispettivi piani perpendicolari ad a e b sono ortogonali tra loro. Allora l'intersezione di questi due piani ortogonali tra loro coincide, il luogo dei punti che è l'intersezione dei due piani coincide con c, coincide con la direzione indicata dall'asse c, con la direzione z e il prodotto di due riflessioni è sempre una rotazione che è di un ordine che corrisponde a un angolo che è esattamente doppio dell'angolo formato dai due piani che si intersecano. Quindi questi due piani m ed m formano un angolo di 90 gradi, il loro prodotto corrisponde a una simmetria di rotazione secondo un asse che è dato dall'intersezione dei due piani, quindi questo asse P, ed è una rotazione di un angolo doppio rispetto all'angolo che formano i due piani. Ma ho detto i due piani formano un angolo di 90 gradi e perciò l'angolo doppio è 180 gradi, quindi questa è una rotazione di ordine 2 m per m e una rotazione di ordine 2 parallela a z, parallela al vettore c. Quindi mettendo da soli questi due m abbiamo senz'altro, anche se non lo specifichiamo nel gruppo, una rotazione di ordine 2 in questa posizione. Allora può essere, una delle classi è che, può essere che nel nostro sistema, anzi diciamo meglio, stavo parlando dei centri di inversione, questa stessa m è perpendicolare a c. Allora, parallelamente a c abbiamo una rotazione di ordine 2, ma questa terza m ci dice che c'è anche un piano di simmetria perpendicolare a c. E allora vale lo stesso giochetto del monoclino, avete una rotazione di ordine 2 con perpendicolare un piano m, deve generarsi un centro di inversione, perché se combinate la rotazione col piano perpendicolare avete la simmetria 1-. Quindi m, m, m è certamente un gruppo centrosimmetrico. Però poi potete avere delle classi dell'ortorombico che non sono centrosimmetriche. Per esempio potete avere la m, m2. La m, m2 ha questa m perpendicolare a, la m perpendicolare a b, ma non ha una m perpendicolare a c, ha semplicemente la rotazione di ordine 2 che viene fuori dal prodotto di queste due m e m. E non è centrosimmetrico, perché se lo fosse, insieme alla rotazione 2 che viene generata dalla m e la m, e il centro di inversione verrebbe fuori anche quest'altra, la terza m, quindi avreste necessariamente la m, la classe m, m. Quindi per esempio m, m2 è una sottoclasse dell'ortorombico che genera gli stessi vincoli metrici. Lo stesso potete avere per esempio la 2-2-2. La 2-2-2 è una classe dell'ortorombico, il gioco dei vincoli metrici è esattamente identico a questo. Pensateci, la rotazione 2 impone gli stessi vincoli metrici di m, quindi vale lo stesso discorso su quali angoli vengono bloccati dalla presenza delle simmetrie che abbiamo già fatto per m e m, m. Quindi siamo ancora nell'ortorombico, ma è una classe che ha soltanto rotazione di ordine 2 e non ha riflessioni e chiaramente non è centrosimmetrica, perché avreste un centro di inversione e le rotazioni cascate necessariamente di nuovo nell' m e m. Quindi avete strutture cristalline che possono avere la classe eloedrica dell'ortorombico oppure una sottoclasse, per esempio la m, m2 o la 2-2-2, ma non possono avere simmetria inferiore, cioè non potete togliere troppa simmetria, non potete scendere a un 2 su m, perché altrimenti cambiate proprio il sistema cristallino, quindi la vostra struttura non è più ortorombica, ma diventa una struttura monoclinica. Adesso vado un po' più veloce sugli altri, perché poi dobbiamo fare anche altre cose, ma gli scorsi sono sempre gli stessi, però abbiamo il tetragonale, avete una rotazione 4, la rotazione 4 nel tetragonale pone gli stessi vincoli che vi poneva la rotazione 4 nel bidimensionale, in particolare sui moduli dei vettori della base reticolare, e qui avete una rotazione 4 per convenzione messa lungo l'asse Z, quello generato dal vettore C, quindi il vincolo metrico viene applicato sui vettori perpendicolari all'asse C, quindi A uguale B come modulo, perciò il modulo di questo vettore deve essere uguale al modulo di questo vettore, e quindi vi viene generata la cosiddetta cella tetragonale, gli angoli solo devono essere tutti a pi greco mezzi, non a 90 gradi, dall'esistenza poi di quest'altra M che è perpendicolare a 4, quindi questa M è il piano definito dai vettori AB, che vincolerà, quali saranno gli angoli che vincola, saranno beta e alfa, poi avete anche altri piani di simmetria, questo M e questo M. In particolare la copiata di questo piano con questo piano, o la copiata del 4 con quest'altro piano, mi genera i vincoli sugli angoli che devono esserti quanti più greco mezzi, quindi ancora una cella ortogonale, che però differisce da quella ortorombica per il fatto che avete un vincolo anche sui moduli dei vettori. La cella ortogonale è un prisma ortogonico in cui i tre vettori hanno lunghezze in generale differenti, in generale poi possono esistere le pseudosimmetrie, per cui può essere che A uguale C, per esempio, ma la struttura ha comunque simmetria semplicemente ortogonale. Nel tetragonale si impone che A sia uguale B. 4 su M, questo va letto come simbolo unico, nel senso 4 perpendicolare a M, va letto come simbolo unico in relazione a quella che è la direzione di riferimento, che come ho detto, nel 4 è la direzione di riferimento quella dell'asse C, con perpendicolare un piano di simmetria, quindi questo 4 su M. Poi avete il secondo, se questo lo leggete come un tutt'uno, avete il secondo simbolo M, che invece la direzione di riferimento è l'asse generato da A, quindi dall'asse X, questo M quindi corrisponde ad un piano che è il piano definito dai vettori CB, e il terzo M non corrisponde a un piano perpendicolare a B, ma corrisponde a un piano che è perpendicolare alla direzione U, B, lo dico poi dopo le direzioni con i numeri ve le dico un'altra volta, lo dico, la direzione 1, 1, 0, in pratica è la direzione definita da una combinazione lineare dei vettori A, B, ma sulle direzioni e sulla notazione delle direzioni oggi vi devo ancora qualcosa un po' più avanti, l'ultima parte di questa lezione. Poi avete il cubico M3-M, allora vi ricordate cosa vi ho detto, 3- e rotazione di ordine 3 seguita da un'inversione, e poi avete M3-M, quindi tre simboli nel gruppo, nel simbolo del gruppo puntuale, questa M, la direzione di riferimento di questa M tra parte e la perpendicolare all'asse X, che però poi come vedremo è anche equivalente per simmetria all'asse Y, è equivalente anche all'asse Z, ma questo ci torno tra poco, convenzionalmente la direzione di riferimento è l'asse X, questo 3- è un'asse di roto-inversione e l'asse è parallelo alla direzione che corrisponde alla diagonale principale del cubo, quindi la direzione che chiamiamo 1, 1, 1, anche su questo torniamo dopo. In pratica la direzione A più B più C vi identifica un vettore che è parallelo alla diagonale principale della cella cubica del cubo. E poi avete ancora questo M che analogamente al tetragonale, indica un piano di simmetria che passa, che taglia l'angolo tra i due vettori A e B, M3-M. Quali sono i vincoli metrici che sono imposti del cubico? Sono questi della cella cubica, quindi tutti gli angoli a 90 gradi, tutti ortogonali e i moduli dei tre vettori devono essere uguali, quindi A uguale a B uguale a C. Famoso il caso NACL che cristallizza con il sistema della classe oloedrica del sistema cubico. Poi anche qui, così come accade per tutti gli altri sistemi cristallini, ci sono delle sottoclassi che hanno meno simmetria rispetto alla simmetria principale, rispetto alla classe oloedrica. Notate che nel simbolo M3-M non sono presenti 4 operazioni di ordine 4, ma il cubo è certamente invariante per rotazioni di ordine 4, quindi le rotazioni di ordine 4 che sono poi parallele agli assi A, B, C, quindi parallele ad X, Y, Z, sono comunque implicite nel gruppo. Lo sono perché, allora vi ho detto, M è un piano che è perpendicolare ad A, cioè all'asse X in pratica, quindi piano CB. Quest'altro M che compare qui, vi ho detto, è un piano che taglia a 45 gradi, taglia a 45 gradi il piano AB, quindi un piano che si trova a 45 gradi rispetto a quest'altro piano CB, no? Quest'altro piano messo qui. Quindi questi sono due piani che contengono l'asse C, per cui la loro intersezione corrisponde all'asse Z, in pratica all'asse divinato dal vettore C, e il prodotto di due riflessioni è sempre una rotazione, ripeto, di un angolo doppio rispetto all'angolo formato dalle due riflessioni. L'angolo formato dai due piani di riflessione scritto qui, questo qui e questo qui, è di 45 gradi, perciò a questo corrisponde una rotazione di ordine 4, cioè una rotazione di 90 gradi, due volte 45, lungo un asse, intorno a un asse che è dato dall'intersezione di due piani, cioè le virgolasse C. Quindi il fatto di mettere un piano definito dai vettori CB e un piano che taglia il piano AB, che taglia la faccia AB, automaticamente definisce anche una rotazione 4 perpendicolare al piano AB, cioè quindi parallela C. Perciò, anche se non sono indicate nel simbolo del gruppo, ci sono delle rotazioni 4 all'interno del nostro sistema. Dopodiché, dal momento che per simmetria queste tre direzioni ABC sono tutte equivalenti per simmetria, se avete una rotazione 4 lungo C avete anche una rotazione 4 lungo A e avete anche una rotazione 4 lungo B. Attenzione che, come dicevo, possono esistere delle sottoclassi del cubico che non contengono rotazioni 4, ma contengono soltanto rotazioni di ordine 3, parallele alle diagonali principali del cubo. Non ce n'è soltanto una, ci sono 4 diagonali principali del cubo e potete avere delle strutture cristalline che non hanno 4 come simmetria, ma hanno 4 rotazioni di ordine 3 e quindi appartengono allo stesso sistema cubico perché i vincoli metrici che un gruppo simile va a generare sono esattamente gli stessi del cubico, sono esattamente questi. Trigonale. Trigonale avete rotazione di ordine 3 e poi M, abbiamo il 3M, il 3,1M, il 3M1, ma su questo, come già accadeva nel bidimensionale, non sto a dettagliare. Notate che la differenza rispetto al cubico è che qui c'è anche la trigira, l'assi di rotazione di ordine 3, ma ce n'è uno solo, non ce ne sono più d'uno, perciò il sistema non è assimilabile al cubo, ha una simmetria diversa e impone dei vincoli metrici che sono simili a quelli del cubo ma non identici. Vedete che qui avete A uguale B uguale C, quindi avete tre vettori della base reticolare che hanno lo stesso modulo, alfa uguale beta uguale gamma, ma non necessariamente il valore di questo angolo di alfa beta e gamma sia vincolato a 90 gradi. Alfa e beta e gamma possono assumere, devono essere uguali, ma il valore che assumono quei triangoli può essere qualunque, può essere, che so, tutti e tre di 75 gradi, va benissimo, avete un sistema trigonale. Non sto qui adesso ad alentare la direzione del trigonale e l'esagonale, c'è una complicazione in più, c'è un quarto asse che viene definito, ma questi sono dettagli che adesso non vi sto a raccontare. Non vi servono, poi comunque dopo tre giorni dall'esame le avete già dimenticate. È giusto fare una panoramica dei discorsi che si fanno nella classificazione dei sistemi. Esagonale, 6 su M, M e M, anche qui 6 su M è un simbolo unico, è un'unica cosa che vi dico, sia nel trigonale che l'esagonale, la direzione di riferimento dell'asse di rotazione è normalmente la Z. E allora, poiché è normalmente la Z, i vincoli metrici che vediamo nel caso dell'esagonale, e sono imposti essenzialmente da questa rotazione di ordine 6, sono che A sia uguale B, quindi il modulo A deve essere uguale al modulo di B, C non è vincolato a nessun valore particolare rispetto ad A e B, quindi il rapporto di C con A e quindi anche di C con B è qualunque, il numero qualunque, alfa uguale beta uguale a 90 gradi, quindi questi due angoli sono di 90 gradi, mentre l'angolo gamma, che è l'angolo formato da A e B, deve essere di 120 gradi. Questi sono i vincoli metrici che il sistema esagonale impone. Notate la differenza rispetto al caso bidimensionale, dove il trigonale e l'esagonale definiscono una stessa metrica. Nel trigonale le metriche sono distinte. In realtà non è proprio così, nel senso che questa cella qui che ho costruito, che viene costruita, che viene chiamata cella romboedrica, a cui si dà un simbolo R, può anche essere riformulata in termini di una cella esagonale. E quindi potreste avere il cosiddetto reticolo trigonale romboedrico o il reticolo trigonale con un setting esagonale, che ha un vincolo metrico esattamente identico a quello che avete nell'esagonale. E fino a un po' di anni fa, entrambe le scelte, cioè un setting tromboedrico, un setting esagonale, erano benvenute, nel senso che uno poteva un po' scegliere quella che doveva. Da un po' di anni a questa parte, la UCR, appunto la Unione Internazionale di Cristerografia, raccomanda, o dà come convenzionale, la cella romboedrica per il trigonale e la cella privitiva con un setting esagonale, appunto, per l'esagonale. Raccomandazione per l'esame. Allora, poiché molti di voi in passato, perché volevano approfondire probabilmente le cose che venivano dette a lezione, quindi non gli bastava il materiale che gli veniva dato, studiavano anche probabilmente su altro materiale, magari preso da internet, che non sempre è prodotto da cristallografi e soprattutto materiale vecchio, obsoleto, datato, magari scopiazzato da roba ancora più vecchia di, che so, 40 anni, poneva la classificazione dei reticoli, la classificazione dei sistemi cristallini, su base metrica e non su base simmetrica. E quindi molti mi raccontano, sistema triclino, perché lo vedono scritto nelle tabelle che trovate in giro, sistema triclino, simmetria non la si considera e si dice A diverso da B diverso da C, alfa diverso da beta diverso da gamma diverso da 90 gradi. Ecco, se io sento una cosa del genere, non mi arrabbio, perché io non mi arrabbio mai con gli studenti, però vi faccio presente che non è corretto e vi faccio poi un'altra domanda cattiva, tra virgolette, per farvi capire che il modo con cui mi avete classificato il triclino è sbagliato. La stessa cosa è il monoclino. A diverso da B diverso da C, alfa uguale gamma uguale a 90 gradi, beta diverso da 90 gradi. Anche qui, no, assolutamente no. Sistema monoclino, simmetria 2 su M, vincoli metrici, alfa uguale gamma uguale a 90 gradi. Dopodiché, gli altri parametri assumono i valori che vogliono. Può anche esserci un monoclino con A uguale B uguale a C e tutti gli angoli di 90 gradi, quindi b mare, una cella perfettamente cubica, ma in realtà avere una simmetria della struttura cristallina che è 2 su M, quindi il sistema non è cubico, ma è monoclino. E la simmetria della disposizione degli atomi nella cella che determina il sistema, non la metrica. Poi è chiaro che la metrica può suggerire la simmetria, nel senso che se io vado in laboratorio e trovo una sostanza con dei parametri di cella che soddisfano questa relazione, è chiaro che sono, diciamo, orientato verso la scelta del cubo e del sistema cubico, e quindi poi vado a verificare che la simmetria sia effettivamente quella. Però, non è, normalmente non funziona così. La domanda cattiva che faccio dopo, diciamo, nel caso in cui uno mi usi la classificazione su base metrica, è questa. Immaginate di avere una sostanza che abbia, siete andati in laboratorio, avete fatto, ciò che vi racconterò la prossima volta, una diffrazione, quindi avete tirato fuori la cella, quindi avete determinato quali sono i vettori della cella, in modulo e in angolo tra loro, e avete trovato un angolo esattamente di 90 gradi, cioè lo strumento vi dice 90.00, e due angoli che non sono di 90 gradi. Quindi uno misura, che so, 88.7 gradi, e l'altro misura 95.2, e sono alfa e gamma con i due valori strani, anomali, diciamo, non particolari, non 90 gradi, non 120, non nulla, e uno che è 90 gradi. E allora la domanda è a che sistema cristallino quella sostanza andrà a appartenere? Allora, chi non ha capito che è la simmetria che determina il tutto e non la metrica, ha dei problemi, perché comincia a dire ok, il triclino mi impone che tutti gli angoli siano diversi da 90 gradi, perché va a vedere la tabella in cui c'è scritto alfa diverso da beta, diverso da gamma, diverso da 90, e quindi se il triclino lo escludo perché nel mio caso un angolo di 90 gradi ce l'ho. E il monoclino non può essere perché alfa uguale gamma, cioè due angoli 90 gradi e non soltanto. Allora, a quale sistema appartengo? Non lo so. Esisterà un qualche sistema intermedio tra il triclino e il monoclino? Esisterà un biclino, per esempio? Tenete conto che la nomenclatura triclino vuol dire tre angoli clini, monoclino vuol dire un angolo clino, che è il beta, e quindi uno dice se io ho un angolo di 90 gradi e due no, magari appartiene a un biclino, però il biclino non esiste come sistema, come mai? E non esiste come mai perché quella sostanza lì apparterrà certamente al sistema triclino, perché se fosse monoclino avrei due angoli vincolati, lì ne ho uno di 90, quindi al limite di tuo parere vincolato, e due diversi, e non può avere una simmetria superiore al meno uno, perché nel momento in cui vado a metterci qualcosa in più rispetto a quel meno uno, vado a metterci una rotazione di ordine 2 o una riflessione M, per non parlare poi degli altri sistemi diciamo con simmetria ancora elevate, io vado a vincolare come minimo due angoli. Perciò la sostanza non può essere monoclina, deve essere per forza triclina e il fatto che ci sia un angolo di 90 gradi non è vita vietato, può capitare benissimo che una sostanza abbia una cella caratterizzata da un angolo di 90 gradi. Nessuno lo vieta, la natura non lo vieta e quindi può esistere, con una simmetria però che è al più la simmetria di inversione, poi può al limite anche essere semplicemente la simmetria identica, quindi un triclino, classe meno uno oppure classe ultima. Ok, questa parte va bene, quindi andiamo avanti, centrature possibili, vi avevo detto nel bidimensionale aveva senso centrare la cella rettangolare, quindi potevamo avere celle a base a cella centrata C, per tutti gli altri sistemi che erano appunto l'oblicuo, il quadrato, il trigonale, esagonale, non era utile o non aveva senso centrare la cella, per cui l'unico reticolo che poteva essere centrato con una qualche utilità era il rettangolare. Nel tridimensionale la situazione è un po' più ricca, per cui nel triclino abbiamo soltanto la cella primitiva, nel monoclino abbiamo la cella primitiva più è possibile avere la cella base centrata C, stesso simbolo che ho dato nel bidimensionale. Quello C vuol dire che sto centrando se la rotazione di ordine 2 o il piano M, se la rotazione di ordine 2 è parallela a B e il piano M perpendicolare a B, sto centrando la faccia opposta C al vettore C, quindi sto centrando la faccia A B definita di vettore A B questa faccia qui ma non è raro trovare anche altre centrature di una sola faccia sempre nel monoclino non convenzionale per esempio potrei avere un monoclino con reticolo di brave questi reticoli si chiamano reticoli di brave con reticolo centrato A in cui vado a centrare la faccia A o reticolo centrato B quindi dove c'entra la faccia B che è quella perpendicolare al vettore B convenzionalmente si centra la faccia perpendicolare a C e quindi ho il reticolo B e il reticolo C poi ho l'ortorombico l'ortorombico può presentare più centrature più celle centrale più diverse nel senso che può essere utile nell'ortorombico centrare più cose per esempio non centrare nulla e quindi avere semplicemente la cella primitiva centrare la faccia C quindi esattamente come nel monoclino oppure avere un reticolo F F sta per facce centrate tutte le facce del reticolo sono centrate quindi la faccia C cioè la faccia perpendicolare ad A la faccia perpendicolare a B la faccia perpendicolare a C quindi rispettivamente questa faccia A questa faccia qui perpendicolare a B e questa faccia qui perpendicolare a C questo è il reticolo a faccia centrato tenete conto che la molteplicità del reticolo a faccia centrate è più grande come come cade in tutte le celle centrate rispetto alla molteplicità del P così anche come la 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 molteplicità ehm il numero di nodi associabili a una cella centrata a C è più grande è doppia rispetto al numero di nodi della cella centrata a C nel faccia centrate avete quattro nodi che sono associabili alla ehm alla nostra cella eh cristallografica perché perché ogni faccia questo immaginate il prisma ortorombico è un solido costituito da sei facce ogni faccia conta per un mezzo la centratura di ogni faccia conta per un mezzo perché il nodo che sta al centro di una faccia è condiviso con una cella vicino con una sola cella vicino quindi ogni faccia conta per un mezzo avete sei facce per un mezzo sono tre nodi poi avete i nodi che stanno ai vertici del nostro prisma ortorombico e i vertici sono condivisi tra otto possibili celle quattro in un piano e quattro al piano superiore o quattro in un piano e quattro al piano inferiore per la base del prisma e quindi avete otto vertici perché sono otto sono i vertici del prisma ortorombico ciascuno di quei nodi che sta sui vertici però conta per un ottavo e quindi avete otto per un ottavo che da uno andate a sommarlo ai tre nodi della centrazione delle facce avete quattro quindi quindi le facce centrate un reticolo facce centrate condivide è associabile a quattro nodi della cella il primitivo uno centrato base centrata c due il facce centrate quattro e lì è il reticolo a corpo centrato dove avete un nodo del reticolo esattamente al centro della cella il numero di nodi associabili al reticolo a corpo centrato è due quindi uno per i nodi che stanno sui vertici quindi otto per un ottavo più un nodo che sta esattamente al centro della cella e quindi non è condiviso da nessun altro da nessun altro cella vicino conta per uno quindi avete due così come accade per la base centrata quindi nell'ortorombico abbiamo queste possibilità di centratura poi abbiamo il tetragonale in cui abbiamo solo il reticolo primitivo e il reticolo a corpo centrato così come nell'ortorombico abbiamo il corpo centrato anche qui i ha lo stesso significato di reticolo a corpo centrato nel tetragonale nel cubico avete il primitivo il faccio centrato e il corpo centrato e poi nel trigonale abbiamo la scelta convenzionale del reticolo r quindi il romboedrico e nell'esagonale semplicemente il reticolo t in totale avete 14 reticoli differenti attenzione il P del triclino è diverso dal P del monoclino è diverso dal P dell'ortorombico perché la disposizione dei nodi è differente nello spazio perché vengono rispettati i vincoli metrici distinti quindi si considera P primitivo del triclino un tipo di reticolo P primitivo del monoclino un altro tipo di reticolo ancora e quindi in totale avete 14 tipi di reticolo che vengono chiamati reticolo di bravetto perché ci sono i reticoli di bravetto questa è una domanda che faccio a volte all'esame la stessa ragione per cui ci sono anche per cui c'è il reticolo centrato nel rettangolare nel bidimensionale si usano i reticoli di bravetto perché consentono di passare da celle primitive non ortogonali in generale a celle ortogonali e poi perché attraverso la centratura attraverso l'uso di celle centrate siamo in grado di disporre gli elementi di simmetria della della nostra struttura parallelamente o perpendicolarmente a quelli che sono gli assi cristallografici x, y, z che generano i vettori a, b, c quindi è una questione di utilità non si ricorre al reticolo di bravetto perché è utile per descrivere meglio la struttura del nostro sistema questa è la risposta che dovete dare passaggio a celle più ortogonali possibili e passaggio a celle in cui le simmetrie gli elementi simmetri sono disposti in maniera semplice cioè ortogonale o perpendicolare agli assi cristallografici che consente di visualizzare meglio le strutture farci far conti più comodi avendo a che fare con sistemi di riferimento ortogonali anziché sistemi che non siano ortogonali quindi questa è la risposta che dovete dare allora abbiamo ricapitolando questa slide lunga abbiamo 32 classi che si vengono suddivise in base ai vincoli metrici di 7 sistemi cristallini quindi ogni sistema cristallino conterrà un certo numero di classi data dalla simmetria e 14 reticoli di Bravais quindi questa è la classificazione dei sistemi cristallini in 3D qui ripeto nella prima parte delle cose che ho già detto relativamente alle convenzioni per cui l'asse 2 è convenzionalmente orientato nel lungo B nel monoclino eccetera 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 quindi non sto più a dire delle cose già detto adesso andiamo facciamo il passo verso i gruppi spaziali quindi andiamo a combinare come abbiamo fatto nel bidimensionale abbiamo combinato i reticoli quindi le simmetrie trasrazionali con le simmetrie puntuali e abbiamo tirato fuori i 17 gruppi spaziali qui andiamo a combinare le trasrazioni in 3D le simmetrie di trasrazioni in 3D con le simmetrie puntuali date da quei 32 da quei 32 classi e otterremo 230 gruppi spaziali ma attenzione nella costruzione dei gruppi spaziali potranno intervenire degli elementi delle simmetrie nuove così come accadeva nel caso del bidimensionale della linea G che sono corrispondenti a simmetrie puntuali associate a trasrazioni frazionarie rispetto diciamo a una certa direzione nello spazio allora nel caso bidimensionale abbiamo visto solo la linea G che corrispondeva ad una riflessione rispetto a una linea seguita da una traslazione di un mezzo relativamente a un dato vettore della cella parallelamente alla linea medesima nel caso del tridimensionale la situazione è più ricca perché abbiamo sia glide cioè sia piani di riflessione con scorrimento che vediamo tra breve ma abbiamo anche assi di rotazione con scorrimento abbiamo che sono una rotazione di ordine 2 seguita da una traslazione per esempio avete di un mezzo per esempio diciamo meglio supponiamo di essere nel monoclino e quindi abbiamo una rotazione di ordine 2 supponiamo quindi di essere in una classe che abbia la rotazione di ordine 2 che convenzionalmente è orientata lungo il vettore B allora anziché la 2 o in aggiunta la 2 questo dipende dal gruppo spaziale potremmo avere anziché la 2 una rototraslazione 2 1 2 indicata col pedice 1 che vuol dire faccio una rotazione 2 intorno all'asse B e poi lo traslo di un mezzo B quindi un mezzo parallelamente all'asse di rotazione quindi la traslazione è sempre da intendersi parallela all'elemento di simmetria di quanto devo traslare devo traslare di un mezzo rispetto un mezzo del vettore B che è proprio il vettore parallelo all'asse di simmetria infatti il 2 è orientato lungo B questo 2 pedice 1 vuol dire questo rotazione con scorrimento elico gira o elico di gira visto che stiamo parlando di rotazione di ordine B l'1 che c'è scritto qui è esattamente l'1 di questa frazione questo lo dico perché se per esempio ho una che so adesso qui è indicato con delle lettere ma supponete di avere un 3 1 un 3 1 come asse di rototraslazione parallelo all'asse Z supponiamo l'asse Z è quello generato dal vettore C un 3 1 vorrebbe dire che io ho una traslazione di un terzo un terzo lungo C diventa il vettore C lungo il vettore C quindi lungo parallelamente all'asse di rotazione perché l'M che compare qui è il numeratore di un'espressione in cui appunto a numeratore vede una frazione in quel numeratore c'è questo M che ho messo qui e a denominatore questo 2 che ho messo qui è nient'altro che l'ordine di rotazione quindi nella rotazione di ordine 2 2 1 vuol dire un mezzo B perché 1 è scritto qui e questo 1 il 2 è l'ordine di rotazione invece se questa fosse un 3 1 avrei 1 diviso l'ordine di rotazione che vale 3 e quindi questo sarebbe un terzo un terzo C in quel caso perché l'asse di rotazione di ordine 3 è l'ho messo lungo C ma potrei avere anche un 3 2 allora avrei una rotazione di ordine 3 seguita una rotazione di due terzi lungo C perché ci ho messo io ci metto scusate non 2 3 ho detto male 3 2 non so se ho detto 2 3 o 3 2 in ogni caso il 3 2 questa N scritta qui sarebbe un 2 questo M sarebbe un 3 allora l'M è il numeratore di questa frazione quindi è un 2 e al denominatore ci metto il 3 quindi due terzi V dove V a questo punto è il vettore parallelo all'asse di rotazione se siamo ancora nell'esagonale o nel trigonale allora in questo caso sarebbe l'asse C quindi sarebbe 2 terzi V su queste cose poi all'esame non è che entro granché però sappiate che esistono queste simmetrie di rototrasnazione che arricchiscono il numero di simmetrie possibili nel tridimensionale per questo abbiamo molti gruppi spaziali perché ci sono parecchie simmetrie che sono simmetrie puntuali associate alle trasazioni trazionarie stessa cosa riguarda i piani i piani possono essere associati a trasnazioni allora mentre le linee di riflessione con trasnazioni nel bidimensionale venivano chiamate invariabilmente G la glide G nel tridimensionale assumono nomi diversi a seconda di questi piani con trasnazioni come sono orientati e a quali trasnazioni stiamo prendendo come riferimento per esempio avete un glide A che riflette rispetto a se stesso e poi trasla di un mezzo A lungo il vettore A quindi parallelamente al piano di una quantità un mezzo A dove A è appunto il vettore della base della cella la stessa cosa per i glide B e C B vuol dire riflessione rispetto a se stesso e trasnazione di un mezzo B e C vuol dire riflessione rispetto a se stesso e trasnazione di un mezzo C quindi per esempio qui abbiamo il simbolo 2 su M nel monoclino indica asse di rotazione di ordine 2 che è parallelo a B convenzionalmente il piano è perpendicolare a B allora se potrebbe esistere il glide C o anche il glide A ma supponiamo il glide C al posto del nostro M che riflette di questo piano che è perpendicolare a B e poi trasna di un mezzo lungo C visto che il glide ha il simbolo periodato è C la stessa cosa per A abbiamo la riflessione rispetto a questo piano M perpendicolare a B e poi abbiamo una trasnazione di un mezzo A in caso di quindi abbiamo gruppi spaziali per esempio nel monoclino possiamo avere il gruppo spaziale P2 su A dove A è il nostro glide e lo stesso nel monoclino possiamo avere un gruppo spaziale che contiene anziché la rotazione 2 contiene la 2,1 quindi avete P2,1 su C per esempio potrebbe essere un simbolo di gruppo spaziale nel tridimensionale nel gruppo PC questo non ha la rotazione 2 abbiamo che al posto della M abbiamo un glide di tipo C la classe del reticolo voglio solo vedere se più avanti vi ho messo degli esempi ok adesso ve lo dico qui la classe del reticolo la derivate così come nel caso del bidimensionale guardando al gruppo simbolo del gruppo spaziale togliendo quelle che sono tutti i riferimenti alle traslazioni non soltanto le traslazioni del reticolo quindi togliete questa P che indica la la cella primitiva quindi fa riferimento alle traslazioni del reticolo primitivo quindi il compito è chiarisco il compito è trovare la classe di un sistema che abbia gruppo spaziale PC allora togliete il simbolo P che fa riferimento certamente alle traslazioni il simbolo C non mi dite come dice qualcuno all'esame non tanto voi quanto ci sono sempre degli studenti di scienze materiali che hanno studiato cristallografia per 60 ore e poi mi fanno questi errori il simbolo C nel gruppo spaziale non vuol dire il vettore C no vuol dire glide che riflette quindi un piano di simmetria e traslazioni di un mezzo C glide che riflette tras di un mezzo C se io tolgo la componente traslatoria al glide rimane soltanto la riflessione quindi diventa un M l'M è la simmetria di riflessione se gli tolgo la traslazione dal C rimane solo M perciò una volta che abbia tolto dal gruppo spaziale ogni riferimento alle traslazioni quello che mi rimane è semplicemente il simbolo M il simbolo M identifica una delle classi del monoclino vi ho detto che c'è il 2 su M il 2 e le M sono classi sul monoclino che tutti e tre generano esattamente gli stessi vincoli metrici proprio del monoclino quindi la classe del sistema è monoclina allora la 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 trovate nel gruppo spaziale del diamante fd 3m fd 3 meno m e vuol dire f faccia centrata nel gruppo spaziale del diamante appartiene al sistema lo dico dopo allora avete a una cella di bravè f quindi a faccia centrata f d è un glide togliete la componente traslattore dal glide avete m e gli altri due simboli sono meno 3 ed m quindi la classe di quel sistema m 3m m 3 meno m 3 meno c'è il 3 segnato sotto vuol dire rotazione con seduta di inversione l'emme 3 meno m è proprio il cubico quindi la classe soloedrica del cubico quindi un sistema con gruppo spaziale fd 3 meno m è a classe m 3 meno m e appartiene il sistema cubico e reticoli di bravè fasi centrate e questa è la lettura del gruppo spaziale del diamante granato simbolo del gruppo spaziale i a 3 meno d anche quello è una la stessa cosa vale facci pensate è la stessa cosa del diamante è l'unica differenza e quindi sempre stessa classe m 3 meno m sempre sistema cubico l'unica cosa ha una centratura i quindi a corpo centrato rispetto invece diamante una centratura a faccia centrale va bene qui adesso faccio qualche rapidamente qualche giochetto degli stessi che ho fatto per per il bidimensionale tanto per farvi vedere qualcosa ma andrò abbastanza veloce in cui costruite delle celle con un certo contenuto mettendo un oggetto all'interno della cella cristallina e assegnando al sistema una un dato gruppo spaziale quindi per esempio prendiamo il gruppo c 2 su m vi ho detto che il monoclino prevede la centratura c e a classe 2 su m poi esiste il gruppo spaziale c 2 su m allora vedete che qui ho fatto una proiezione in due dimensioni della cella tridimensionale e ho messo in questa direzione l'asse b in questa direzione l'asse a il vettore b e il vettore a e vedete che ho fatto una proiezione di tipo rettangolare allora qual è l'angolo compreso tra questi due vettori come si chiama l'angolo compreso tra questi due vettori tra il d e la l'angolo compreso se non ve lo ricordate andate a vedere tra il b e la e il gamma e quando io metto l'asse di rotazione di ordine 2 parallelamente a b gamma vale 90 gradi così come vale alfa perciò questa proiezione che è fatta sui vettori b ed a è necessariamente una proiezione ortogonale perché questo angolo compreso tra b ed a è proprio l'angolo gamma ma l'angolo gamma è di 90 gradi quindi l'asse di rotazione di ordine 2 messo lungo b e l'angolo tra b ed a deve essere 90 gradi punto primo punto secondo o un gruppo c 2 su m centratura nella faccia c dov'è il c qui il c emerge fuori dal piano del monitor non posso dire che sia perpendicolare al piano del mondo perché la perché c per esempio forma con forma un angolo per esempio con con a che l'angolo beta l'angolo opposto a vettore b l'angolo beta che in generale non è di 90 gradi potrebbe anche essere per una seudo simmetria ma in generale non è di 90 gradi quindi il c non emerge parallelamente non emerge in maniera perpendicolare rispetto al piano del monitor ma non ci interessa più di tanto il c viene fuori dal piano del mondo io qui rappresento soltanto ciò che vedo in proiezione su a e su b tuttavia questa appunto il c viene fuori dal piano e la faccia c quella che centro perché una sensazione di tipo c è proprio la faccia la faccia opposta al vettore c quindi è proprio questa faccia la faccia definita dai vettori ab quindi ho un nodo qui ho un nodo qui ho un nodo qui un nodo qui ma ho anche un nodo al centro della cella appunto perché sto considerando il gruppo spaziale c2 su m allora si parte e metto un oggetto questo rappresentato da questo circoletto qui dove ho messo anche un più vicino il più che sta a dire che quell'oggetto è sollevato di una certa quota più z rispetto al piano del monitor che considero a z uguale 0 quindi dove vedete un più vicino al simbole io vuol dire che l'oggetto è sopra il piano dove vedete un meno come in questo caso l'oggetto è sotto il piano adesso vado a applicare su questo oggetto le simmetrie prima le simmetrie trasrazionali vi ho detto che potete fare come volete però la cosa più ordinata da fare è partire con le simmetrie trasrazionali sull'oggetto che mettete all'inizio del vostro sistema e poi applicate le simmetrie puntuali allora prendiamo questo oggetto lo trasliamo di vettore a di vettore b e finisco qui lo traslo di vettore a e finisco in questa posizione lo traslo di vettore a più b e finisco in questa posizione quindi ho un solo oggetto nella cella e altri oggetti generati dalla traslazione da una prima traslazione dell'etticolo fuori della cella però attenzione ho anche un vettore centrante il vettore c che trasla corrisponde alla traslazione di un mezzo a più b perciò questo oggetto viene preso e portato anche qui in quest'altra posizione sempre con la quota più sempre più perché le traslazioni parallele a v non cambiano l'altezza relativa del nostro oggetto perciò lui rimane una certo sempre la stessa quota z abbiamo fatto le traslazioni lungo a lungo b e non abbiamo interessato il vettore c perciò la quota deve rimanere sempre la stessa dopodiché vado a applicare le simmetrie puntuali le simmetrie che corrispondono nel gruppo spaziale 2 su m allora ho messo l'asse di rotazione di ordine 2 parallelo a b e il piano m è perpendicolare a b quindi è il piano che contiene il vettore a contiene vettore a e conterrà anche il vettore c quello che ci interessa che la traccia in proiezione del piano corrisponde esattamente a questa linea allora adesso posso per esempio applicare la rotazione di ordine 2 a questo oggetto e questo me lo porta in questa posizione quindi ruoto intorno all'asse di rotazione di ordine 2 di 180 gradi quindi l'oggetto viene preso e ruotato dall'altra parte del piano del monitor ruotato dall'altra parte significa che la sua quota cambia se prima era più z dopo va a meno z viene portato lì sotto del piano una volta che abbia generato l'oggetto messo qui applico le traslazioni a e b e poi la traslazione centrante e mi genero questo oggetto questo oggetto vedete questo oggetto adesso sta dentro la cella e la traslazione lungo b di vettore b di questo oggetto qui riporta l'oggetto messo qui e genero anche quest'altro oggetto che però sta fuori dalla cella poi c'è la centratura del reticolo che mi porta l'oggetto messo qui quindi se applico mezzo a più b a questo oggetto qui finisco in quest'altra posizione quindi ho già generato questo oggetto perché era l'oggetto di partenza questo poi questo e questo in totale ho già quattro oggetti due a quota positiva e due a quota negativa dopodiché applico anche la riflessione perpendicolare a b quindi prendo questo oggetto e lo rifletto rispetto a questo piano che passa di qui allora questo piano è perpendicolare a b non cambia la riflessione non cambia la quota z se un oggetto era più z rimane a più z quindi l'oggetto che genero qui è più z che è un più vicino però gli cambio il colore gli cambio il colore perché questo oggetto qui in realtà l'immagine speculare di questo allora se io avesse a che fare con semplicemente un atomo c'è un oggetto sferico supponiamo l'immagine speculare di un oggetto sferico ancora lo stesso oggetto sferico quindi l'oggetto è sovrapponibile alla propria immagine speculare se però è quell'oggetto li quel circoletto li fosse una molecola e magari una molecola tirale non è più sovrapponibile alla sua immagine speculare perciò l'oggetto che vado a generare qui e con un'orientazione non sovrapponibile a questo un oggetto non differente ma orientato nello spazio in maniera non sovrapponibile all'oggetto originale allora per questo si mette una colorazione differente in realtà molte volte si mette semplicemente il cerchietto con dentro una virgoletta per indicare l'immagine speculare ma era molto più facile per me quando ho fatto il disegno colorare diversamente questi oggetti senza non andarci a mettere una per ognuno andarci a mettere dentro una virgoletta allora ma questa diciamo una notazione non rilevante allora prendo tutti questi oggetti per esempio potrei limitarmi a questo ma prendo tutti questi oggetti che ho già generato prima e gli faccio l'immagine speculare rispetto a questa linea dopodiché basta applicare le centrature la centratura del reticolo e le traslazioni del reticolo per finire qui questa posizione questo viene generato dalla traslazione di questo oggetto questo viene generato dalla traslazione di quest'altro oggetto e poi c'è questo oggetto qui che viene trasportato qui alla centratura del reticolo da un mezzo a più b quindi questo qua segno meno finisce qui e questo oggetto viene trasportato qui abbiamo totali generato in totale otto oggetti nel nostro sistema a partire dalla sola centratura e da due e su m messi in queste posizioni due la situazione di ordine 2 messo qui ed m messo qui ma adesso se andiamo a guardare la nostra figura scopriamo delle simmetrie in più allora innanzitutto scopriamo dei centri di inversione per esempio guardate questo gruppo di quattro oggetti qui qui c'è un oggetto a più e da quest'altra parte c'è la sua immagine speculare con segno meno allora questo oggetto qui avrà coordinate x x su questo asse y su questo asse più z non z quest'altro ha coordinate meno x su questo asse meno y su questo asse e poi meno z quindi esattamente il centro simmetrico rispetto a questo è la stessa cosa accade di questo che è il centro simmetrico di questo quindi qui c'è un centro di inversione ma poi trovate centro di inversione anche qui 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 e qui e trovate un centro di inversione anche al centro della della cella e poi trovate un centro di inversione per esempio qui questo quadrante che mette in relazione questo oggetto con questo oggetto e un centro di inversione qui che mette in relazione questo oggetto con questo oggetto un altro messo qui e un altro messo qui quindi avete più centri di inversione poi avete delle rotazioni di ordine 2 che vi compaiono qui no sbagliato una rotazione di ordine 2 che vi compare qui per esempio questo preso questo viene preso e ruotato qui vedete questo oggetto viene preso a consegno più e ruotato nell'oggetto al di là del piano della del monitor con segno meno questo oggetto viene ruotato qui questo oggetto viene rotato qui questo oggetto viene rotato qui notate che i segni cambiano sempre apposta perché avete la rotazione la rotazione non cambia la chiralità non cambia l'immagine speculare in qualcos'altro per esempio se abbiamo l'immagine speculare dell'oggetto originale che si trasforma nella stessa immagine speculare dell'oggetto originale perché la rotazione non scambia le due immagini speculari quindi avete una rotazione messa qui poi guardate la relazione che può esistere tra questo oggetto e questo oggetto e tra questo oggetto e quest'altro messo qui abbiamo una rotazione di 180 gradi rispetto a questa linea seguita da una traslazione di un mezzo A scusate di un mezzo B stessa cosa qui rotazione di 180 gradi di questo oggetto che passa da sotto il piano della lavagna A sopra seguita da una traslazione di un mezzo B e ancora rotazione di 180 gradi quindi passiamo sopra il piano della lavagna qui c'era un meno passiamo un più seguita da una traslazione di un mezzo B finiamo qui e la stessa cosa vale per questo che finisce in questa posizione allora queste linee qui che ho segnato in azzurro sono le linee di sono delle rototraslazioni 2 e 1 rotazione di ordine 2 seguita da una traslazione di un mezzo B cioè rotazione di un mezzo del vettore parallelo all'asse di rotazione quindi avete queste simmetrie in più più ci sono queste queste linee tratteggiate cosa sono queste? queste sono riflessioni quindi prendo l'oggetto per esempio lo rifletto rispetto a questa linea che ho segnato tratteggiata formo l'immagine speculare dell'oggetto originale quindi sarà in colore e poi traslo di un mezzo A finisco in questa posizione rifletto, traslo di un mezzo A finisco in questa posizione vedete che non cambia mai in questi passaggi il segno più rimane più perché la riflessione rispetto a questa linea non cambia la quota Z che rimane sempre in variante allora cosa sono queste linee? sono dei glide A perché sto riflettendo e sto traslando di un mezzo A perciò il simbolo che assegna il glide è A non B o un'altra lettera quindi nel gruppo ho certamente due M poi ho i centri di inversione poi ho dell'elico di gire delle due e uno e dei glide di tipo A questo è diciamo il modo con cui viene generato generato l'insieme di oggetti mi sono dimenticato oltre a questi ci sono anche le inversioni cioè il modo in cui vengono generati tutti gli oggetti nella cella elementare che sono 8 ed è anche il modo in cui vengono identificate le simmetrie presenti quindi oltre a quelle due su L due ed N allora la molteplicità della posizione cosiddetta generale ho messo questo oggetto qui in una posizione che non è su nessun elemento di simmetria si chiama posizione generale e la molteplicità che viene fuori è 8 8 oggetti equivalenti a quello di partenza generati dalla simmetria ok adesso facciamo un altro esempio più semplice per poi parlare delle posizioni speciali le posizioni speciali sono quelle che ho su elementi di simmetria non associati a traslazioni ma anziché vederli qui dove ho tante simmetrie proviamo a vederli qui questa è una cella ancora una proiezione identica quella di partenza della figura di prima solo che ho scelto un gruppo spaziale diverso P2 su M dove non ho la centratura del reticolo ho solo rotazioni 2 e riflessioni M in questo gruppo non ci sono glide non ci sono assi di rototraslazione se fate lo stesso giochetto che abbiamo fatto prima per il C2 su M ottenete una figura di questo genere dove avete 4 oggetti nella vostra cella cristallina quando studiate provate a farlo da soli quindi avete visto dovreste aver capito più o meno poi se non avete capito mi chiedete come fare a generare questa figura quale tecnica ho usato e provate a rifarlo col P2 su M come ho detto non lo chiedo all'esame assolutamente però se magari imparate se vi interessa provate vedete che una cosa può anche essere divertente allora ognuno si diverte come può diciamo allora qui abbiamo generato 4 oggetti nella cella elementare due sono a quota positiva e una a quota negativa quindi diciamo che la molteplicità della posizione generale è 4 adesso se io vado a mettere l'oggetto di partenza su un elemento di simmetria per esempio lo vado a mettere sulla come l'ho messo qui su un piano qui passa nei piani di riflessione perpendicolare a B sia qui che qui al centro che qui passa un piano di riflessione immaginate di spostare questo oggetto sul piano allora questo si avvicina mano a mano che questo si avvicina al piano anche questo che è la sua immagine speculare si avvicina al piano e quando questo giace esattamente sul piano questo oggetto si sovrappone all'oggetto originale quindi avvicinate questo al piano questo anche si avvicina quando questo oggetto è sul piano la sua immagine speculare è esattamente sovrapposta allora innanzitutto l'oggetto che è messo lì per stare sul piano di simmetria deve essere sovrapponibile alla propria immagine speculare perché se non lo è allora io metto un oggetto che non è sovrapponibile alla sua immagine speculare lo metto su un piano di simmetria io distruggo il piano di simmetria il piano non può più essere un piano perché l'oggetto non è sovrapponibile alla sua immagine speculare ma se l'oggetto è sovrapponibile alla sua immagine speculare allora io posso andare a mettere L'oggetto sul piano e questo si sovrappone a se stesso senza nessun problema. Quindi quello che ho è generato un unico oggetto sul piano. E se fate questo gioco, avvicinate questo a questo, attenzione dovete avvicinare anche questo a questo, anche questo si avvicina perché questo oggetto che ho messo qui è prodotto dalla rotazione di ordine 2 parallela B, lungo un asse parallela B, di questo oggetto qui. Quindi se avvicino questo, anche questo si avvicina al piano e poi si va a sovrapporre esattamente alla propria immagine circolare sul piano. Quindi questo oggetto e questo oggetto finiscono sul piano sovrapposti a questi due. E la stessa sorte succede a quest'altra coppia di quattro oggetti perché mano a mano che io mi avvicino, quando questo va a finire sul piano, questo circoletto chiaro va a finire sul piano, anche questo va a finire sul piano perché questo come lo generate? Lo generate per traslazione di vettore B. Quindi prendete un oggetto che è messo in questa posizione, lo traslato di vettore B, finisce qui. Prendete questo oggetto in questa posizione, lo traslato di vettore B, finisce qui. E allora cos'è capitato? È capitato che nella vostra cella non avete più quattro oggetti. Vi sembra che ce ne siano quattro perché ne contate ancora quattro. Uno, due, tre, quattro. Però questo oggetto è condiviso con un'altra cella vicino. Lo stesso capita per questo, lo stesso capita per questo, lo stesso per questo. Quindi questi oggetti che sono sui bordi della cella contano ciascuno solo per un mezzo, perché sono condivisi con un'altra cella. E allora la molteplicità di ognuno è ridotta alla metà e quindi quando moltiplicate quattro per un mezzo avete soltanto due. Allora avete la cosiddetta molteplicità ridotta, ridotta rispetto a quella generale. La molteplicità della posizione generale era otto, diventa, usate, era quattro, diventa due quando invece mettete l'oggetto sulla vostra, sul piano di simmetria. Cosa analoga capita se andate a mettere l'oggetto sull'assi di rotazione di ordine due. Poi potete mettere l'oggetto, se volete, su un centro di inversione. Qui, 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 sono tutti centri di inversione questi indicati con palliglio, vedete? Questo viene invertito in questo oggetto, questo viene invertito in questo oggetto, questi sono tutti centri di inversione. E se voi mettete un oggetto sul centro di inversione, quindi prendete questo e lo spostate qui, tutti questi altri tre oggetti vanno a collidere tutti in questo punto. Notate che il centro di inversione ha una quota z esattamente pari a zero. Non ha coordinate libere. Il centro di inversione qui ha coordinate 0, 0, 0, se questa è l'origine della vostra cellulite. Allora, un oggetto sul centro di inversione non ha più nessuna coordinata libera e se voi fate questo giochetto, avvicinate questo qui, anche questo oggetto qui va a finire su questo centro, insieme a questi altri tre, e la stessa sorta accade per questi altri gruppi di quattro oggetti qui e quattro oggetti qui. Molteplicità di questo oggetto. Uno, perché ciascuno di questi, in proiezione, è un oggetto che condivide altre tre celle, viste in proiezione, quindi conta per un quarto, ogni nodo della celle in proiezione conta per un quarto, conta per un quarto e avete quattro oggetti, per un quarto va a uno. Quindi la molteplicità della posizione sul centro di inversione è ridotta semplicemente a uno. Dopodiché qui c'è un esercizio che vi propongo, ma non ve lo sto a proporre se volete farlo, perché non ci ho discusso, quindi non ve lo faccio, perché non ve lo chiedo, perché non ho discusso la questione delle coordinate in modo sufficiente, perché voi possiate far da soli un esercizio del genere. Il punto è questo, allora, torniamo qui. Voi avete un certo gruppo spaziale, avete una certa cella in cui potete mettere un oggetto in posizione generale e a partire da quella posizione voi generate un certo numero di altri oggetti equivalenti per simmetria. Quindi quando dovete descrivere la vostra struttura, per esempio, in un sistema di questo genere, non dovete dare le coordinate dei quattro atomi nella cella, se conoscete la simmetria. Date semplicemente, descrivete semplicemente le coordinate dell'oggetto che sta messo qui, perché poi le coordinate degli oggetti che sono messi qui vengono fuori di conseguenza dall'applicazione della simmetria. Quindi, poiché ogni oggetto è associato a tre coordinate, e ne avete quattro nella cella, se doveste descrivere la posizione di tutti gli oggetti, senza fare uso della simmetria, avreste bisogno di assegnare dodici coordinate. Tre per quattro oggetti sono dodici coordinate. E notate che le coordinate normalmente vengono fuori, come vi dirò la prossima volta, da misure di diffrazione di raggi X, seguite da una certa analisi dei dati che vi vengono fuori dalla macchina, che si chiama diffrattometro raggi X. E non è una cosa semplicissima, poi, di andare a determinare le coordinate degli atomi che sono dentro la cella da quei dati B. Più semplificato il problema, più facile la risoluzione strutturale. Quindi è più facile risolvere strutturalmente la struttura di un cristallo, se avete da assegnare solo tre coordinate, cioè l'oggetto messo in posizione generale indipendente per simmetria, piuttosto che dodici. Ora, qui le coordinate di questo oggetto sono tre generali, che dovete determinarli con la misura. Non ci sono santi, se avete un oggetto in posizione generale, dovete determinare XYZ, almeno di quell'oggetto. Se andate a finire, invece, su una posizione speciale, innanzitutto la molteplicità dell'oggetto è ridotta. Punto primo. Secondo, le coordinate non sono più tutte vincolate. Lo vediamo bene qui, non sto ad entrare troppo nel dettaglio, non sto a fare tanto lunga, ma se per esempio avete un oggetto, un atomo, supponiamo una specie chimica messa sul centro di inversione, le sue coordinate sono fissate univocamente. Qui è 0, 0, 0. Se mettete un oggetto qui, non dovete più misurare le sue coordinate, le sapete già, sapete che è un oggetto a XYZ uguali a 0. E voi, notate, potreste avere una struttura cristallina, in generale le avete, in cui avete diversi tipi di atomi. Per esempio, potete avere un atomo in posizione generale e un atomo in posizione speciale. Supponete che la sostanza abbia una stichiometria del tipo A4B. A4B vuol dire che avete nella cella quattro atomi di specie A e un atomo di specie B. Questo vuol dire che l'atomo di specie B non può certamente stare in posizione generale, perché se stessi in posizione generale, ne mettete uno e ne generate altri tre, quindi ne avreste quattro, dovreste una stichiometria A4B4. Ma la vostra stichiometria, che avete determinato, ovviamente attraverso l'analisi chimica, è A4B. Perciò necessariamente il vostro B, il vostro atomo B, deve stare su una posizione speciale. E poiché, se sapete, conoscete la simmetria, conoscete il gruppo spaziale, sapete anche dire dove sono le posizioni speciali e assegnargli le coordinate, automaticamente avete assegnato le coordinate al vostro oggetto B, al vostro atomo B. Quindi questo è un aiuto decisivo per quanto riguarda la risoluzione strutturale. Adesso qui c'è un esempio che passo molto, molto rapidamente, perché sono un po' in ritardo, e poi la volta prossima vorrei parlare di Sousi di frazione. C'è un esempio in cui faccio vedere la struttura del piropo dal punto di vista dell'analisi di simmetria. Allora, innanzitutto partiamo. Il piropo ve l'ho fatto nella prima o nella seconda lezione. Era una sostanza di formula MG3L2S3O12. Quello che potete fare molto rapidamente è il laboratorio, per esempio, è una misura di densità. La densità è 356 grammi a centimetro al cubo. Quindi questa è una misura che vi fate molto rapidamente, nel giro di un quarto d'ora, in laboratorio venite fuori con la misura di densità. Peso formula ve lo determinate, sommatoria dei cosi atomici di singoli elementi, tenendo conto dell'abbondanza relativa all'interno della formula, avete 402.98 in termini massi atomici. Dopodiché andate al diffrattometro. Al diffrattometro, come vi dirò la prossima volta, delle misure relativamente facili sono quelle che determinano semplicemente i parametri della cella e la simmetria della cella. Allora scoprite che il piropo è cubico, questo ve l'avevo detto, se non vi lo ricordate chiaramente non importa, ma diciamo la cella elementare è cubica e ha un parametro di cella A, a uguale B uguale C di tutti gli angoli di 90 gradi, perché la cella è cubica, siamo nel gruppo spaziale del Granato, che è di A3-B, e vale 11.45.9 Armstrong. Allora basta, infatti, al cubo, visto che stiamo parlando del sistema cubico, e avete un volume di 1504.666 Armstrong cubici che è tradotto in centimetri cubici, per poi fare un utilizzo insieme alla densità che è data in grano centimetro cubo, 1504.666 per 10 alla meno 24 centimetri cubici. Questo è il volume della cella elementare del piropo. La domanda è, nota D, noto il peso formula, quindi nota la formula cristallo-chimica, quante unità di formula mg3, l2, 6, 3 o 12 sono contenute nella cella cubica del piropo? Perché in realtà nella cella cubica non è detto che ci sia solo un'unità di formula, ce ne possono essere più di una. Allora, quello che fate è fare questa cosa, allora sapete che il nome di Avogadro è questo, dividete la densità per la massa della vostra unità di formula, quindi D su M e avete il numero di moli nella vostra cella. La moltiplicate per il numero di Avogadro, avete il numero di moli non nella vostra cella, ma avete il numero di moli in un centimetro cubo, se dividete la D, la densità in grammi al centimetro cubo, diviso il peso fonda. Moltiplicate per il numero di Avogadro e avete il numero di molecole in un centimetro cubo, poi moltiplicate il tutto per il volume in centimetri cubi della vostra cella e avete il numero di unità formula che avete nella vostra cella elementare, che viene chiamato Z. Se voi fate questo conto, viene fuori 8. 8 magari non viene proprio 8, perché magari avete fatto un errore piccolo nella determinazione del parametro di cella, quindi il volume non è esattamente quello, ma è un po' differente, magari avete ottenuto 8.05. Quello Z deve essere un numero intero, il numero intero di unità formula Mg3L263O12 dentro la cella. Vuol dire, questo 8, che avete 8 volte questa unità formula, quindi sono 3 per 8 atomi di magnesio, 3 per 8 atomi di magnesio, 2 per 8 di alluminio, 3 per 8 24 di silicio e 12 per 8 di ossigeno. Totale 160 atomi e quindi 160 per 3 sono 480 coordinate da determinarsi in un esperimento di diffrazione di raggi X. Non è banale, non sono pochi, 480 coordinate. Avreste poi dei grossi problemi nel tirar fuori quali sono queste coordinate. Una volta che avete raccolti i dati diffratometrici, poi la prossima volta vi dico di che natura sono questi dati diffratometrici. Diciamo che il problema di risolvere la struttura è difficile in un caso come questo, ma interviene l'aiuto della simmetria. Allora, il gruppo spaziale del piropo, così come il gruppo spaziale di ogni granato, è IA3-D, classe M3M, M3-M, perché A e D sono glide, quindi come vi ho detto prima, togliete dal simbolo del gruppo spaziale tutti i riferimenti e le traslazioni, questo è il simbolo della centratura, del corpo centrale del cubico, togliete dal simbolo quindi questo e rimane A3-D, togliete i riferimenti e le traslazioni da A e D e rimane M3-M, quindi M3-M è la classe oloedrica del cubico, perché il sistema è chiaramente cubico. Andate a consultare le tabelle internazionali, se voi voleste costruire una figura analoga a quelle che ho ricavato qui, fatte per quei sistemi gruppi C2-M, eccetera, diventa, il problema diventa da fare manualmente impossibile, perché in realtà un atomo in posizione generale, coordinato di distrizione Z, genera 96 altri atomi equivalenti per simmetria, quindi semplicemente andando a mettere un atomo in posizione generale, un oggetto in posizione generale, nella vostra cella ve ne trovate altri 96. Capite benissimo che fare a mano un disegno del genere è praticamente impossibile. Però, fortunatamente, esistono delle tabelle, le tabelle internazionali, di cristallografia, che per ogni gruppo spaziale riportano le coordinate degli oggetti rispetto e quella che è la loro molteplicità, la molteplicità della posizione. Allora, cosa importante, la determinazione di questo gruppo spaziale è relativamente facile da fare a partire dai dati difratto metrici, quindi la cella e la simmetria in termini di gruppo spaziale è qualcosa che si determina abbastanza rapidamente, non rapidamente, diciamo, con facilità. Allora, guardate un po', avete la posizione generale x, y, z, quindi tre coordinate qualunque, che ha molteplicità 96. Quanti ossigeni abbiamo nella nostra cella del piropo? 96. Allora, è molto probabile, non certo, ma è molto probabile, che l'ossigeno sia in posizione generale. E a questo punto non dovete determinare le coordinate di tutti i 96 di ossigeni nella cella, vi basta determinare x, y, z di una di un atomo di ossigeno perché tutti gli altri vengono fuori di conseguenza. Queste sono le coordinate degli ossigeni o comunque le coordinate delle posizioni equivalenti per simmetria alla x, y, z che vengono generate da tutte le operazioni di simmetria che avete presente nel gruppo. Poi avete le posizioni speciali che sono su elementi di simmetria per esempio guardate quanto alluminio abbiamo nella nostra struttura ne abbiamo 16 atomi allora l'alluminio deve necessariamente stare su una di queste due posizioni perché se stesse fuori da una di queste due posizioni con queste coordinate o a 0, 0, 0 o a un ottavo un ottavo un ottavo automaticamente ne avreste più di 16 16 è la posizione con la molteplicità più bassa perciò necessariamente l'alluminio deve stare su una di queste due posizioni e potete uno può provare poi se non funziona la risoluzione strutturale prova l'alternativa cioè prova a mettere l'alluminio in quest'altra posizione ma poi viene fuori che l'alluminio è in questa posizione che non ha nessun grado di libertà vedete che tutte le tre le coordinate sono fisse 0, 0, 0 quindi mettere l'alluminio lì significa che dell'alluminio non dobbiamo più preoccuparci sappiamo che l'alluminio è in quella posizione non dobbiamo determinare nessuna delle sue coordinate ma lo stesso accade per il silicio e per il magnesio che sono 24 anche loro non possono stare in posizione generale altrimenti ne avremo 96 non 24 ne abbiamo 24 e andiamo a vedere nella tabella quali sono le posizioni speciali che hanno molteplicità 24 ne abbiamo due se una la facciamo occupare dal silicio non potrà più essere occupata dal magnesio e viceversa se la occupiamo dal magnesio non potrà più essere occupata dal silicio e allora abbiamo solo due alternative in pratica o mettiamo il silicio qui o lo mettiamo qui e viceversa per il magnesio anche qui sono coordinate completamente fisse quindi non dobbiamo preoccuparci delle coordinate del silicio del magnesio perché essendo soltanto 24 devono stare su una di queste due posizioni entrambi e perciò le coordinate vengono fissate viene fuori che soltanto tre coordinate sono determinate le coordinate dell'ossigeno messo in posizione generale da cui poi si generano tutti gli altri 96 mentre magnesio silicio e alluminio sono in posizione speciale bloccata passiamo da un problema a 480 coordinate difficilissimo a un problema a tre coordinate determinate sperimentalmente cosa che si fa molto molto facilmente quindi nel giro di pochi minuti venendo su da un difrattometro messo in laboratorio con i dati che sono stati raccolti si risolve la struttura a patto appunto di arrivare a determinare in maniera preliminare dagli stessi dati difrattometrici quello che è il gruppo spaziale quindi questa è l'utilità massima che si ha di cristallografia della conoscenza della similità adesso siccome volevo darvi un po' di minuti di sosta mi fermo in realtà appunto volevo ancora fare la parte questa parte di geometria dei reticoli ma in pratica per parlarvi dei piani reticolari che poi ci servono nella parte che riguarda la diffrazione ma non ho tempo diciamo altrimenti poi veramente immagino che abbiate altre due ore ancora dopo e quindi voglio darvi un po' di sosta e quindi diciamo questa parte la vediamo poi la prossima volta vorrà dire che correrò un po' di più sulla parte di diffrazione e quindi andremo più che a parlare di direzioni cristallografici parlerò direttamente poi dei piani i piani articolari della loro simboleggiatura delle distanze interplanari che entrano poi nella teoria geometrica della diffrazione quindi chiudo qui se avete domande chiedete ok se non ci sono domande ci vediamo la prossima volta a rivederci a rivederci a rivederci a rivederci a rivederci a rivederci a rivederci